allora raccontateci la partita è stato bellissimo allora è stato molto bene si è giocato bene il portiere è abbastanza forte poi nel primo tempo ci siamo un po' siamo incominciati male ma il secondo tempo abbiamo fatto 6 gol quindi ci basta così abbiamo messo tutta la nostra energia che portiamo e abbiamo vinto non ce l'aspettavamo perché io pensavo che ci dovevamo ancora conoscere però sono contento che abbiamo vinto prima partita con la maglia del prato bene, ho fatto pure gol ci sei divertito? sì bene anche tanto grazie prego non c'è di che è il mio dovere